Sperate, come si è toccato? io si no lo vedo ponce la... si no è stato molto felice è così è così la mona terrorista è così qui è la mona del rabino? però tu tàpate la cara stiamo parlando del mismo lato che... 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.